E' polemica per l'autovelox di Via di Sotto, importante arteria di Pescaracolli. Il limite di velocità è stato posto a 30 km orari e in un anno le multe sono state oltre 3.000. Alcuni automobilisti le hanno collezionate, ritrovandosi a pagare anche 10 contravvenzioni in pochi mesi. L'idea dei dossi per rallentare il traffico è stata bocciata, poiché con l'ospedale poco lontano la via è spesso percorsa dalle ambulanze. Così a marzo scorso è entrato in funzione l'autovelox, anche per tutelare gli studenti delle due scuole lungo la strada. Diciamo che si è trafficata, i giorni che ha aperto la scuola penso che sia anche giusto, però dopo gli orari della scuola secondo me fa anche più traffico. Coloro che hanno ricevuto la multa per aver superato anche di pochi km orari il limite di velocità non l'hanno di certo presa bene. A seguito delle proteste il Consiglio Comunale ieri ha approvato la mozione presentata da Udc e Lega che sposta il limite ai 40 km orari. Per il centro-sinistra però questo non basta, il limite dovrebbe essere a 50. Noi diciamo che invece le tantissime multe, a meno 3.000, quello che abbiamo potuto oggi calcolare, vanno comunque annullate, perché questa è davvero una tassa fatta in maniera molto molto maldestra. E diciamo che però, siccome qualcuno ha già pagato, ogni centesimo che dovesse rientrare nelle tasche dei comuni, ogni singolo centesimo da questo autovelox deve essere subito indirizzato per veramente migliorare la sicurezza della strada. E non è questo il modo di farlo. Quindi la vostra proposta è quella di spostarla almeno a 50 km orari? Sì, ma non è una nostra proposta, questo è il limite delle strade urbane. E per un autovelox la maggioranza in comune si è spaccata. I consiglieri forzisti hanno votato contro Lega e Udc e il sindaco Masci ha dichiarato che il voto del Consiglio ha rappresentato la sconfitta delle regole. Si è spaccata perché chiaramente ha avuto forse un po' di timore della protesta che è montata in maniera molto forte e che comunque non si è fermata perché basta vedere i commenti rispetto alla notizia di aver portato a 40 e contro loro per vedere insomma che le persone non sono assolutamente contente. Ad ogni modo il nuovo limite non è ancora in vigore e l'autovelox continua ad attivarsi al superamento dei 30 km orari. Per il limite a 40 occorrerà attendere la perizia dei tecnici. Io vado via, mi frega niente. La multa non la prende? Se la prendo, la prende mia moglie. Quella cammina. Grazie. 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 Grazie a tutti